Noi ricordiamo Domenico De Littis, Carmela e Romano Pasanetti, vittime di fine 2017 a scelto di terribiluppare il volto del nostro gargantino, ma non è riuscito a ridurre in scendere il desiderio di coloro che tutelano la bellezza e la storia del nostro gargantino. Noi ricordiamo Nicola Cifreda per il suo coraggio, perché per primo ha scorciato il velo di obertà di cui per anni è stata vittima di imprenditoria a Foggiano, perché con la sua vita ha difeso la possibilità di lavorare e di fare imprenditoria a Foggia, come uomini è tornare liberi.